Salve a tutti amici youtube e benvenuti in questo nuovissimo video Io come al solito sono Toto e prima di iniziare col video oggi vediamo questi due braccialetti Sono rispettivamente il Fitbit Inspire normale e il Fitbit Inspire HR Prima di continuare però vi ricordo che ho aperto un nuovo canale, un canale di motori si chiama TotoRider E insieme a Marianne che è la mia moto andremo a scoprire tante altre novità relativamente al mondo dei motori Quindi se ancora non vi siete iscritti ovviamente a questo canale ma neanche all'altro Allora approfittate nella seconda che siete più appassionati di tecnologia o di motori o magari di entrambi Ce ne saranno davvero delle belle Ma al di là del breve spot iniziale vi ricordo anche che a proposito di spot collaboro con Pampling Italia Fanno magliette molto fighe, ve ne ho già parlato negli scorsi video E tramite il codice Detoto che vi lascio in descrizione potete avere il 15% di sconto su tutti gli acquisti Queste collaborazioni e i momenti spot sono necessarie per portare avanti il canale Quindi non me ne vogliate ma insomma secondo me le magliette sono anche molto belle Poi non c'entrano nulla con la tematica trattata sul canale per cui a maggior ragione accetto questo tipo di collaborazioni Ma passiamo ai Fitbit Se mi seguite dal 2017 sapete che io non ho mai avuto grandissime esperienze con gli orologi smart di Fitbit Giusto adesso ha vibrato Perché? Perché l'Ionic era un prodotto acerbo quando è arrivato sul mercato E nonostante vari mesi passato a provarlo Insomma non ho mai avuto un'esperienza positiva Anche se ultimamente l'ho provato poi accoppiato ad un iPhone e funziona correttamente Ma nel 2017 è stato davvero un trauma Trauma che è continuato per tutto il 2018 Fortunatamente Fitbit ha lavorato per risolvere molti dei bug che avevano i suoi primi dispositivi I primi dispositivi del nuovo corso che è iniziato subito dopo l'acquisizione di Pebble Fino ad arrivare oggi a questi qui che funzionano devo dire piuttosto bene Attenzione non sono perfetti Non sono fitness tracker professionali Non sono sport watch Sono semplicemente dei fitness tracker che indovinate un po' Vanno a scontrarsi con una delle fitness tracker forse più diffuse al mondo Ovvero la Xiaomi Mi Band 3 Infatti per la prima volta Fitbit propone dei suoi dispositivi Con un prezzo rispettivamente di circa 69 euro e di 100 euro Rispettivamente per la versione senza sensore del battito cardiaco E con sensore del battito cardiaco Qui sul mio polso quella viola e quella senza E quella bianca e quella con Nonostante siano dispositivi che si chiamano con lo stesso nome Inspire e Inspire HR In realtà presentano alcune piccole differenze Iniziamo però dalla costruzione e dall'aspetto estetico come sempre Costruzione che è davvero fatta bene Sono costruiti entrambi interamente in plastica Con una parte superiore sempre in plastica Che però è piuttosto resistente Non si graffia È facile da pulire Certo cattura leggermente le impronte Però basta insomma strofinarla leggermente per pulirla La visibilità del display è ottima Si tratta di un piccolo display monocromatico Che curiosità ha lo stesso colore della versione che scegliete Per cui per esempio su questo viola il display tende appunto al violaccio Mentre su questo bianco il display è completamente bianco Quindi se scegliete la variante blu Sappiate che il display sarà blu Questo di per sé non è un difetto Se non considerassimo il fatto che Fitbit offre comunque la possibilità di cambiare il cinturino E quindi scegliere vari colori sempre dal sito E quindi vi potrete ritrovare che so con la scocca viola Il bracciale blu e il display viola Cosa che magari non è proprio il massimo della vita Però sta a voi poi scegliere eventuali cromie più o meno piacevoli E' completamente pulito di pulsanti Il Fitbit Inspire nella parte inferiore ha soltanto i piccoli contatti per la ricarica Mentre ovviamente sull'Inspire HR c'è anche il sensore di battito cardiaco Finalmente entrambi questi dispositivi presentano un caricatore che è uguale per entrambi Però è diverso da tutti gli altri dispositivi che Fitbit ha in commercio Io questa cosa ancora non continuo a capirla Soprattutto nel 2019 il perché una stessa azienda debba fornire tre caricatori diversi Per ogni dispositivo che ha nella propria gamma E secondo me deleterio E' vero che non tutti come me hanno cinque Fitbit a casa Però insomma magari io voglio per la settimana voglio un dispositivo più piccolino Quindi un Inspire per il weekend Voglio un dispositivo un attimino più completo come per esempio il Versa Mi farebbe piacere poterli caricare tutti con lo stesso caricatore Magari adattando in maniera diversa i vari dispositivi Però insomma dammi la stessa base Magari anche wireless Perché diciamocelo questi sono dispositivi che si adattano alla ricarica wireless Hanno batterie piccolissime Si ricaricano in pochissimi minuti Magari lo lasciate lì mezz'ora e avete la carica per due o tre giorni E quindi insomma forse è il momento giusto di pensarci Ma al di là di questo svarione filosofico Beh indossati al posto praticamente non pesano assolutamente nulla L'unico pulsante è presente sulla parte laterale Offre un buon feedback E' un pulsante normale Non è come quello del Charge 3 che offre un feedback di tipo aptico E' proprio un pulsante normalissimo E permette di ritornare alla schermata precedente Oppure direttamente alla home Mentre per selezionare alcune delle funzioni Bisogna passare tramite il touch Touch che funziona bene nella maggior parte dei casi Ma non è precisissimo Ogni tanto c'è qualche piccola non risposta Diciamo quando passate il dito sul display A volte il tocco non viene recepito proprio in maniera precisa Dovete forzare un po' di più Ma nulla di drammatico Qual è però la differenza principale tra questi due dispositivi Al di là del sensore del battito cardiaco E che mentre con l'Espire HR potrete selezionare L'attività che state facendo Per esempio la corsa Per esempio la palestra Per esempio il ciclismo Direttamente dal dispositivo Per quanto riguarda l'Espire senza sensore di battito cardiaco Dovrete per forza passare dal cellulare Quindi dipende un po' dal vostro utilizzo Se voi siete dei sportivi diciamo molto casual Quindi andate a correre una volta a settimana Quando vi ricordate Lo sport per voi è sì bello Ma non è una priorità Nell'arco dei vostri impegni Vi interessa di più monitorare Quanti passi fate Il vostro sonno Questi aspetti qua Allora forse l'Espire è preferibile Anche perché magari Cioè in una giornata normale Difficilmente andrete a vedere Se non per curiosità I primi giorni Qual è il vostro battito cardiaco Discorso diverso invece per l'Espire HR Che si rivolge non dico agli sportivi professionisti Ma a quelli che lo fanno un po' più metodicamente Magari vi allenate due o tre volte a settimana Fate i vostri 15-20 minuti di corsa O di sport in generale Volete vedere il vostro andamento Volete misurare le vostre prestazioni Beh allora l'Espire HR Grazie anche a sensori di battito cardiaco Può essere il dispositivo da scegliere Entrambi però non hanno il GPS A metà Nel senso che se fate partire l'attività Dal vostro cellulare Si agganceranno automaticamente Al GPS del vostro smartphone E in quel caso la precisione dipenderà Dal GPS del vostro smartphone E non dai Fitbit Quindi se avete uno smartphone Il cui GPS non è proprio il massimo Allora potreste vedere Dei risultati un po' sfalsati Verificate insomma tramite recensioni Tramite informazioni Tramite specifiche Che il vostro cellulare Prima di utilizzare questa opzione Abbia effettivamente un GPS affidabile Di solito lo è nei medi e nei top di gamma Almeno negli ultimi anni Nei bassi di gamma Potrebbe presentare qualche problema Tenetene semplicemente conto Come contano i pass E come vanno però Nella vita quotidiana Per quanto riguarda Le notifiche funzionano molto bene Ho ricevuto sempre tutte le notifiche Dall'applicazione si possono selezionare Le app da cui riceve le notifiche Quelle invece da cui non ricevele Quindi è completamente a scelta dall'utente Sempre dall'applicazione si possono selezionare Poi funzioni aggiuntive Al momento sono pochissime Ma sicuramente arriveranno Come è stato nel caso Della Ionic Nel corso dei prossimi mesi E si possono andare a scegliere Le varie watch faces Non ce ne sono tantissime Anche perché sono dispositivi Appena arrivati sul mercato Ma anche in questo caso Sicuramente ne arriveranno tantissime Col passare dei mesi E col passare degli aggiornamenti C'è stato un aggiornamento Non appena l'ho collegato Allo smartphone Dopodiché per il momento Non ce ne sono più stati Per quanto riguarda invece Il conteggio dei passi Rimane il solito problema Dei Fitbit Io ho provato simultaneamente Questi L'Espire L'Espire HR Anche il Versa Lite E la Xiaomi Mi Band Che al momento si stanno caricando Perché caso vuole Che si siano scaricati Nello stesso momento Beh l'Espire E l'Espire HR Hanno sempre contato Circa su 10.000 passi Circa 5.000 passi in più Se non di più In questo caso Ho notato anche un piccolo bug Ultimamente appunto Ho preso la moto Quando vado in moto Il Fitbit Mi segnala Che invece Sto facendo della bici Fin qui Vabbè ci sta Sono dispositivi Entri level E insomma Accetto il fatto Che riconosca la moto Come bici Sto spendendo poco Non mi aspetto Prestazioni proprio Centellinate Al millesimo Tuttavia Mi sono accorto Che l'algoritmo Di Fitbit Conta sì L'attività come bici Ma la converte In passi fatti Infatti dopo Un viaggetto Di 130 km Mi sono ritrovato Con 14.000 passi fatti E questo Non è Un errore Di per sé Ma appunto L'algoritmo Trasforma Converte L'attività in bici Come passi fatti E poi Vi conta L'attività Nell'applicazione Quindi se fate 30 minuti di bici Avrete effettivamente 30 minuti di bici Ma convertite anche I relativi passi Che andranno quindi Sottratti poi Ai passi che fate Durante il giorno Fatto sta comunque Che in questo caso La sovrastima È veramente abbondante Io percepisco Un 40% di passi in più Rispetto a quelli Che faccio Veramente Quindi Insomma Fate attenzione Molto preciso invece Il battito cardiaco Molto preciso Forse è un'esagerazione Però diciamo Che c'è zecca Se volete Una media Una stima Quasi Molto vicina A quella che è effettivamente L'andamento del vostro cuore Allora il Fitbit Spire HR Ci sta alla grande Una cosa che mi ha invece soddisfatto E chi mi meraviglia Per quanto riguarda Tutti i Fitbit Finole testati È il monitoraggio Del sonno Io mi sveglio molto spesso Durante la notte Per esigenze Mie particolari Ma Ogni volta che mi sveglio Anche per pochi secondi Lui riesce effettivamente A monitorare Che mi sono svegliato E me lo segna Nell'applicazione Non solo Se io sto per esempio Riposandomi Magari leggendo un libro Non mi segna Come per esempio La Mi Band 3 Che io sto dormendo Perché sto fermo Ma semplicemente Capisce che effettivamente Sono sveglio Anche se immobile Non so come faccia In questo caso Fitbit ha fatto sicuramente Un ottimo lavoro Però insomma È una cosa positiva Sotto questo punto di vista Assolutamente nulla da dire Un po' deluso Dall'autonomia Perché? Perché in teoria Da un dispositivo del genere Come per esempio La Mi Band 3 Ci si potrebbero aspettare Circa due settimane di utilizzo Beh durano tra i 4 e i 5 giorni A seconda del numero di notifiche E dalla sincronizzazione E dall'attività Che fate Quindi tenete sempre il caricatore sotto mano Molto probabilmente Anche se viaggiate spesso Vi troverete con il cavetto Per ricaricarle Sempre dietro Per tutto il resto Quindi si confermano Dei dispositivi Pienamente nella loro fascia di prezzo Attenzione Per 100 euro Ci sono dei fitness tracker migliori Degli sport watch migliori Basta pensare al Tom Tom E anche ad alcuni Garmin Magari sui 120-130 euro Però sono dispositivi diversi Non vanno comparati con questi Questi che vanno a sostituire Tendenzialmente il vecchio Fitbit alta Che semplicemente era Un braccialetto con tapassi E che consentisse A chi lo compra Di monitorare Alcune delle attività Di tutti i giorni Ma non sicuramente Di farlo Di trasformarlo Da un sedentario Ad uno sportivo Professionale In più sono piccoli Stilosi Carini Costano poco Relativamente poco E insomma Ci stanno Secondo me Per la loro fascia di prezzo Fatemi sapere Altra piccola differenza Che l'Espire Ha un braccialetto Con aggancio A clip Mentre l'Espire HR Ha la classica cinghietta Come i normali orologi Togliere il braccialetto Tra l'altro È questione È un gioco Da ragazzi Fatemi sapere voi Se utilizzate un fitness tracker Quale utilizzate Quanto sareste disposti a spendere Per un dispositivo Di questo tipo qui Se vi piacciono Questi nuovi Fitbit A me Onestamente Sì è vero Contano tantissimi passi Però Ci stanno Per l'uso di tutti i giorni Sono degli oggetti Carini da avere Sorpresa Ho detto Ho fatto un giudizio positivo Sui Fitbit Noi ci vediamo Come al solito Al prossimo video Lasciate un bel mi piace A questo Se vi fosse piaciuto Iscrivetevi al canale Se ancora non l'aveste fatto Tutti i link social Li trovate qui sotto In descrizione Ciao